E soprattutto, visto che ci siamo di casa, scusate anche la napoletanità, le interviste della serata, quelle che stiamo raccogliendo nel backstage, ma anche quelle che ci sono in sala questa sera, saranno trasmesse sul radio studio M FM 108 e sul sito radio studio M.it. Ecco, quindi per ascoltare, poi vi diremo durante i nostri programmi, lei chiaramente fa l'incenso. Ma adesso? Adesso, lei è una ragazza dalle mille facce. Dalle mille risorse? Dalle mille risorse. Personaggio fantastico, io l'adoro. Successo alla Pidigrotta, Sanchez. Successo alla Pidigrotta. Cuore nero a Project, quindi grande esempio per la musica napoletana. A Catania hanno la cantantezza Carmen Consoli, a Natio Lino, siamo a Marsica. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Marfica, questo è passato. Grazie! Grazie a Marfica, un applauso per lei! Grazie, ciao a tutti! Allora, parabrisse. Allora, ricordiamo sempre che questa serata è una serata di beneficenza, una serata di solidarietà a favore della Fondazione In Nome della Vita Ollus, esattamente per il progetto Aiutami a Crescere dell'Istituto del Cardinale Sede. Quindi vi ringraziamo per essere intervenuti, ringraziamo i partner della serata, poi ringraziamo il Teatro d'Olivare, l'Associazione I Colori di Napoli che hanno permesso tutto questo. Esatto, io vi devo approfittare anche per salutare e ringraziare le voci di Napoli, a Luigi Concilio. Siamo Luigi, certo. Allora, noi continuiamo. Siamo in casa a cuore le cose. Essi, essi, essi. Se io ti dico che è diventato l'idolo delle Teenagers, tu che cosa mi dici? Se tu mi dici questo, io dico soltanto il nome e il pubblico della serata risponde con il cognome. E ti faccio vedere che sono preparati, eh? Ma sì? E allora, dichiarna! Buonasera a tutti! Buonasera a tutti! Buonasera a tutti! Buonasera a tutti!